Musica Amici di Onda Libera, in occasione della settimana europea per l'energia sostenibile, Pesaro ospita diversi eventi. L'associazione di promozione sociale Sentinelle dell'energia è uno dei promotori di queste iniziative, di queste tre giornate. Davide, innanzitutto parlaci di questa associazione, di cosa si occupa? Sì Giulia, con piacere. Noi siamo un'associazione di promozione sociale, appunto, Onlus Parziale, che ha come finalità principale quella di promuovere la transizione energetica nel territorio della provincia di Pesaro Urbino, dove per transizione energetica intendiamo il passaggio da un'economia basata sulle fonti fossili a un'economia improntata sull'utilizzo delle fonti rinnovabili, ma contemporaneamente che faccia ricorso a soluzioni di efficienza energetica e di risparmio energetico. Contestualmente noi vogliamo promuovere tutte queste misure assieme a un interesse più generale sulla sostenibilità ambientale in tutti i settori dell'economia e allo stesso tempo un'attenzione alla sostenibilità sociale, se vogliamo, dove per sostenibilità sociale intendiamo un'attenzione anche alle problematiche di tipo sociale che sono una criticità sempre più pressante in questo periodo di crisi economica. Andando più nel dettaglio di quelle che sono le nostre iniziative, possiamo dire che queste si configurano sia come iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione sugli aspetti, tutti gli aspetti legati all'energia e alla sostenibilità ambientale, sia anche più propriamente laboratori tecnici per il sviluppo di impianti autocostruiti ad energia rinnovabile, sia ancora iniziative di gruppi d'acquisto legati all'energia. In particolare adesso stiamo partendo con dei gruppi d'acquisto per le lampadine LED e per le bollette elettriche certificate 100% rinnovabili. E vorremmo far partire anche un gruppo d'acquisto per il fotovoltaico. Per finire vorremmo anche promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e la cittadinanza attiva per promuovere appunto questa transizione energetica. Per chi volesse anche contattarvi avete un sito web? Come primo riferimento noi lasciamo il sito web www.grupposelene.net dove Selene è la contrazione di sentinelle dell'energia e richiama anche il termine antico greco della luna che in un certo senso abbiamo accolto come simbolo dell'efficienza energetica in quanto non riluce di una luminosità propria ma sfrutta quella del sole. Nel sito internet c'è anche il contact form per inviarci email. In ogni caso la nostra mail è info.grupposelene.net Abbiamo anche una pagina Facebook che è sentinelle dell'energia trattino in mezzo Selene. Dopodiché per diventare soci è sufficiente versare la quota associativa che per i soci ordinarie è di soli 5 euro e in questo modo è possibile accedere a tutte le convenzioni che stipuleremo per i gruppi d'acquisto e anche essere informati su tutte le altre iniziative che promuoviamo. Invece questo weekend che avete organizzato chi vede i protagonisti? Sì, questo weekend accanto a una presentazione della nostra associazione ha visto l'invito di tutta una serie di hobbysti e associazioni che abbiamo voluto coinvolgere per promuovere le loro iniziative legate al risparmio energetico, al riciclo creativo e alla promozione delle energie rinnovabili. Quindi oggi abbiamo con noi Chiara, che è una nostra socia, una dei soci fondatori che produce borse da pelli di scarto e vinili di recupero e quindi a costo zero anche costo energetico, zero se vogliamo. Poi avremo questa sera una signora che insegnerà come fare il pane con la pasta madre e domani avremo altri appuntamenti altrettanto interessanti, più tecnologici se vogliamo perché avremo sia un altro socio che mostrerà come sono realizzate le lampadine LED in autocostruzione sia un radioamatore che ci insegnerà come realizzare un sistema di ricetrasmissione radio alimentato da fonte solare. Avremo poi una ragazza che invece realizza mobili e oggettistica varia in cartone. Per finire, domenica, diciamo, dulcis in fundo, avremo i makers di Rimini un'associazione che infatti si occupa sia di stampanti 3D che di piattaforma Arduino che ci verrà a presentare la propria associazione ma anche un concentratore solare e orientabile con il sole tramite la piattaforma Arduino. Buongiorno, sono Francesco Santori e sono un membro dell'associazione Sentinelle dell'Energia, faccio parte del comitato direttivo e mi occupo principalmente di bolletta sostenibile cioè noi facciamo le convenzioni con i produttori di energia sostenibile per poter ottenere una bolletta 100% rinnovabile. Mi sono occupato dei cartelloni in questo caso. Sono tutti fatti da te, vero? Sì, qui abbiamo il nostro gruppo di acquisto con 30 energia i cui vantaggi economici sono lo sconto del 12% sulla componente prezzo energia e uno sconto complessivo del 4% e del 6% all'anno. Grazie. Grazie.